siamo siamo proprio dei coglioni guarda siamo dei coglioni non trovo altre parole per descrivere questa cosa io purtroppo devo fare il gioco ancora se questo vuole giocare ancora io sono costretto a farlo vuole giocare ancora ragazzi ovviamente io non ci ho giocato più con questo qua io non potevo giocarci non mi interessa un cazzo non interessa proprio niente che gioca ancora me ne faccio altri adesso ovviamente però andiamo a continuare le nostre missioni eccoci in questa nuova partita ovviamente come possiamo cominciare possiamo cominciare come il cazzo ecco qua ci hanno già ucciso ancora dobbiamo iniziarla la partita ci hanno già ucciso vabbè tutti contro di noi ma va bene ci hanno visto senza power up ovviamente se la prendono con noi non abbiamo tre ci hanno visto quelli con meno power up volevo dire ovviamente abbiamo perso cosa potevamo fare in questa partita sono determinato dobbiamo vincere assolutamente dobbiamo vincere dobbiamo tirare meglio di noi meglio di noi parlo anche per te non solo per me ok 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 forse forse hai capito che dobbiamo far vedere meglio di noi forse ancora non cambiamo vittoria aspettate aspettate no se non metteva l'orso allora queste cose ce le dobbiamo pensare prima perché succedono queste cose succedono sempre quindi è meglio non attaccare in quel modo a parte se questa non sta morendo proprio così ancora per poco ma va bene tu ce la puoi fare tu ce la puoi fare ok bravissimo aspettate per i power up se li ha fottuti tutti non mi ha fatto guadagnare nemmeno un power up ma perché ok 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 dai 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 no 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 sì l'abbiamo ucciso scontro finale scontro finale vai vai che i 15 power up benissimo questa partita mi è piaciuta vediamo come entra a finire in questa partita se continuiamo a vincere siamo determinati ovviamente come ho detto già vediamo questa determinazione se funziona sempre ok 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 che non fa niente che ci hanno preso l'importante è non morire cosa sta succedendo da dove si sparano ancora ancora qui è questo mio dio vabbè la sua determinazione non è così avvingente come la mia ovviamente si è fatto uccidere non so dove devo scapparmene ovviamente perché siamo circondati dove andiamo andiamo ci sono questi da dove è spuntato dal nulla questo non lo so abbiamo ucciso una squadra incredibile è finita è finita ovviamente era finita non potevamo fare più niente quando si è circondati è la fine o muori o ti salvi ovviamente spuntiamo nelle casse ma insieme gli altri mai da soli perché non sia mai ce le prendiamo senza senza combattere un po' ma cosa cosa è successo non lo so onestamente si è fatto uccidere noi no però siamo ancora al rischio siamo al rischio morte attenzione ci siamo salvati forse siamo circondati non lo so nemmeno io è meglio scappare da qui tanto lui morirà lo stesso ecco qua come non detto moriremo anche noi forse sì siamo morti anche noi vabbè giochi ancora ormai finiti noi non giocheremo ancora andiamo a riscattare le monete 640 abbiamo sopravvivenza singolo oppure rapina facciamo rapina perché è un evento nuovo sbagliato aspettate ancora un missioni con fang ecco sì devo vincere altre cinque partite aiutatemi eccoci qua in evento rapina vediamo come va a finire il nostro blog non è proprio adatto a questo evento però vabbè lo facciamo essere adatto attacchiamo la loro cassa ovviamente come stanno facendo loro con noi ma le nostre difese sono buh siamo morti no stavamo attaccando la cassa così però loro c'è 40 dai 30 ora ci dobbiamo difendere ovviamente no easy no easy perché sono brawler più adatti rispetto al nostro ma vabbè vai a difendere cosa fa quest'altro cosa fa non ne ho idea onestamente non lo voglio sapere cosa c'è tirato cos'è oh mio dio mi sembra di aver visto una cosa che non avevo mai visto finora però abbiamo vinto sono rimasto un po' scioccato da quello che ho visto ma vabbè li portano a vincere in questa partita cominciamo male male perché già stiamo rischiando di morire davvero mi è spuntato il teletrasporto esiste qui ma cos'è ovviamente ci dobbiamo difendere da tutti perché noi non riusciamo ad attaccare ovviamente ci dobbiamo solo difendere il teletrasporto del cazzo ovviamente vaffanculo si teletrasportatevi morite fate tutto quello che volete però non uccidete me forse i nostri compagni non hanno capito che la cassa la devono proteggere 53 52 40 36 una partita molto combattuta questa 26 29 23 vabbè si sa già chi perderà in questa partita è inutile girarci intorno dai dai forse la vinciamo 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 si si l'abbiamo vinta per poco l'abbiamo vinta per poco meno male meno male che ho attaccato meno male ovviamente andiamo a riscattare queste 10 gemme stiamo a 129 facciamo basketball come evento perché voglio cambiarlo anche io voglio cambiare anche personaggio un altro personaggio con missioni e lola ora andiamo a giocare basketball abbiamo segnato un gol ovviamente meglio così meglio che abbiamo segnato però uno lo voglio fare anche io un canesto qui non è gol perché non è il calcio però me ne ha segnato di nuovo siamo 4 a 0 ovviamente bloccatelo andate a segnare ovviamente volevo farlo anche io un gol però vabbè non è entrata attenzione non è entrata non facciamoci uccidere non fatemi uccidere perché noi e io mi sono fatto già uccidere forse possiamo fare un punto forse dai proviamoci dai che entra non ci voglio credere non ci voglio credere avevo fatto un punto anzi tre punti erano da quella distanza lì dai proviamoci proviamoci dai 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 copritemi copritemi attenzione mi hanno rallentato non è giusto non è giusto questa situazione qui dai entra non ci credo fammi fare sto punto per favore ma perché mi hanno tirato lì non abbiamo nessun aiuto noi non dobbiamo proprio segnare questa è la verità ecco come l'ho detto avremmo anche vinto però io non sono felice di questa cosa perché volevo fare il punto ovviamente un basket però vabbè ci riproveremo sicuramente prossimamente a 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